E' ormai completato in tutta la sua lunghezza il percorso ciclabile che corre lungo Viale Trento Trieste collegando Porta Milano a Porta Venezia. Questa mattina operaia ancora al lavoro per completare la segnaletica orizzontale, mentre gran parte della red urbano, comprese le pensiline della fermata degli autobus provviste di panchine per l'attesa, sono già state sistemate. Anche la zona parcheggio ormai è stata organizzata per definire l'opera, che per l'amministrazione era presente un importante tassello all'interno dell'attuale rete delle ciclabili e che rende più accessibile la stazione ferroviaria e le scuole di via Palestro, mancano davvero pochi metri quelli che da via Stenico vanno verso Piazza Libertà. I lavori della ciclabile, che ha una lunghezza di 1,2 km, sono iniziati il 27 agosto e hanno previsto anche il rifacimento di 1 km di marciapiede, la riorganizzazione della sosta con più aree destinate ai residenti e alle attività commerciali, la messa a dimora di 15 nuove piante. La pista è bidirezionale, si collegherà con le ciclabili di via Brescia e via Mantua, la cui realizzazione è prevista nel 2019. Intanto è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica della pista numero 6, prevista dal Biciplan, che collegherà il quartiere Boschetto alla città. La pista avrà una lunghezza di circa 1,6 km, il suo costo sarà di 900.000 euro.